Obbligo di rinnovo energetico prima della vendita o l'affitto di edifici e abitazioni alla proposta della Commissione europea? Inaccettabile, costosa, assurda, non poteva esserci bocciatura più netta da parte di chi ben conosce la debolezza del settore immobiliare italiano di fronte alla prospettiva di una nuova regolamentazione europea dai potenziali effetti devastanti. Che sostanzialmente andrebbe a introdurre un obbligo di riqualificazione energetica a carico dei cittadini anche non considerando il fatto che molti immobili, pensiamo a quelli in centro storico, non possono raggiungere certe classi energetiche e questo comporterebbe un grave danno per il mercato sia delle locazioni che delle compravendite immobiliari. Per le associazioni di categoria si rischia la svalutazione di quegli immobili che non potranno fare il salto di qualità energetica con l'inevitabile ostacolo alla vendita e all'affitto di molte case, oltre al preventivabile aumento dei canoni di locazione.